La mia relazione è stata sulle forme aggressive di sclerosi multipla, intanto bisogna intendersi che cosa sono le forme aggressive, le forme aggressive sono quei pazienti che raggiungono un importante carico di disabilità in un breve periodo, in genere la letteratura parla di una disabilità di 6 che si raggiunge in 5 anni oppure una disabilità di 4 che si raggiunge in 5 anni, in più pazienti che continuano ad avere ricadute nonostante le terapie effettuate che possono avere progressione di malattia, progressione della disabilità e hanno attività di risonanza magnetica nonostante le terapie effettuate. Questa popolazione di pazienti che chiameremo aggressive e non maligne, perché maligno vuole dire che non ci sono dei risvolti terapeutici e che i pazienti muoiono, mentre invece le forme aggressive ora abbiamo delle terapie, rappresentano circa il 4, 5, 10% della popolazione generale con sclerosi multipla. Quello che dobbiamo fare è riconoscerli precocemente, quindi seguirli frequentemente dal punto di vista clinico e risonanza magnetica e prendere delle misure di terapie aggressive per le forme aggressive. Terapie aggressive vuole dire terapie con immunosoppressori, in particolare noi ora abbiamo degli immunosoppressori particolarmente attivi, sto parlando dell'alentuzumab, sto parlando del rituximab. Anche il natalizumab può essere naturalmente un farmaco da prendere in considerazione per le forme aggressive, ma quando cominciamo natalizumab dobbiamo avere bene in mente che dobbiamo continuare e non sospendere poi il natalizumab. Nei casi molto gravi che falliscono tutte le terapie e in cui la situazione è drammatica, può essere presa in considerazione il trapianto autologo. Questo perché teniamo presente che anche i farmaci più attivi come l'alentuzumab e l'ocrelizumab hanno un'EDA, cioè l'assenza di attività di malattia clinica o in risonanza magnetica a 2-3 anni di meno del 50%, l'alentuzumab parliamo del 39%, l'ocrelizumab parliamo del 47%, mentre il trapianto autologo ha un'EDA a 3 anni praticamente del 75-78%, quindi è una procedura che per quanto rischiosa in alcuni casi selezionati può essere presa in considerazione. Grazie. 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 Grazie.